Ma ciao bei bagaioni, mi avete fatto venire un'idea nell'ultima diretta Facebook che ho fatto mentre stavo registrando l'episodio sulla pelle bianco ghiaccio di questa 6 competition che avete visto nell'ultimo video. Cosa mi avete fatto notare? I pannelli in Alcantara, Alcantara, ma avrò ricevuto forse 100 messaggi, 200, 300, milioni, ma come si pulisce l'Alcantara, come si tratta l'Alcantara? Bene, qui non abbiamo un sedile in Alcantara, abbiamo dei pannelli. Alla fine non cambia niente, che sia un sedile, un pannello, quello che a noi interessa è soprattutto quest'area, quest'area che è sporca, è sporca, anche qui. Ormai diciamo che questi pannelli in Alcantara, non essendo forse mai stati puliti da nuova, perché l'ultima volta che ho visto questa macchina era praticamente nuova, questi pannelli ce li aveva proprio bellissimi, erano bianchissimi, esattamente come è bianchissima adesso la pelle. Cos'è l'Alcantara innanzitutto? Perché la cosa che vedo che a molti di voi, seppure credo che anche da miei colleghi questo argomento sia stato trattato diverse volte, non mi è ancora entrato in testa. L'Alcantara è un tessuto, ragazzi, è un tessuto sintetico, ha bassa penetrabilità a livello di liquido rispetto a un tessuto a maglia larga, ed è un tessuto estremamente delicato. Non è un caso che l'Alcantara, diciamo che meno lo tocchi meglio è, se non ne hai la necessità ovviamente. Nel momento in cui invece devi andare a metterci le mani, può diventare un'operazione che ci crea un danno, una cosa che invece, proprio per questa capacità che ha il tessuto Alcantara sintetico, di avere una scarsa penetrabilità all'interno sia dei liquidi sia dello sporco di conseguenza, l'operazione di pulizia in sé, salvo situazioni molto gravi, dove sull'Alcantara il recupero totale in presenza di situazioni veramente gravi è quasi impossibile, detto sinceramente, senza andare a pregiudicare lo stato del materiale. La regola fondamentale sull'Alcantara è sempre stata solo una. Oltre alla regola di non metterci troppo le mani se non ce n'è una stretta necessità, l'altra regola fondamentale che penso che abbiate già sentito in più e più luoghi sicuramente da parte di addetti al settore che lavorano su questo materiale, su questo tessuto, è quello che l'Alcantara va bagnata almeno possibile. Seppure sembri un controsenso un materiale che di suo è meno permeabile all'interno di un tessuto, il fatto che sia un tessuto da bagnare il meno possibile. In realtà sì, semplicemente perché una volta che un liquido penetra un tessuto a maglia larga, così come l'acqua entra, facilmente l'acqua esce. In un tessuto sintetico così delicato, una volta che la fai entrare, diciamo poi che per farla uscire non è facile e potresti andare poi per andare a rimediare il danno che hai fatto mettendoci troppo detergente che non deve essere schiumogeno o perlomeno deve essere un detergente schiumogeno con tessi attivi molto facilmente risciacquabili. Per non sbagliare noi cosa faremo? Innanzitutto voi avete la preoccupazione adesso, no ma magari c'è polvere queste cose qui, è vero. Potrei dirvi sì, se avete molta esperienza o se avete un'ottima sensibilità usate una spazzola in ottone, non ve lo dirò mai, detto sinceramente perché è un materiale delicatissimo e la spazzola di ottone, seppure vada benissimo per fare queste cose, in mano sbagliata su un materiale simile fa un danno devastante nel giro di mezzo secondo. Quindi benissimo spazzola in ottone se avete la manualità per farlo. Guardate una cosa, vedete la situazione del nostro Alcantara? Abbiamo macchie di sporco, alcune magari sono anche macchie di usura, l'Alcantara è un tessuto pettinabile, questo ormai è talmente saturo di schifezze che la fibra si è indurita a tal punto ed è una fibra di questo Alcantara veramente cortissima, a scarsa pettinabilità già di suo, che praticamente non si pettina più. Quindi, no spazzola d'ottone se non avete la manualità, no questo, no l'altro, Tornador, anche lì, mantenuta a una distanza adeguata, sicuramente non usata a battitappeto, perché l'Alcantara comunque, non vi dico che sia strutturalmente come un cielo auto, assolutamente no, perché il cielo auto è molto più delicato ancora, ma comunque avete una possibilità di fare un danno utilizzando una Tornador a battitappeto. utilizzandola ad adeguata distanza, allora va bene, ma mi direte, ma la Tornador io non ce l'ho, non ho un compressore del minimo sindacale di 100 litri e 3,5 cavalli per far girare la Tornador, che è il minimo sindacale. Quindi come faccio? Volete non sbagliare? Io non vi devo portare adesso il contenuto, quello per professionisti di livello 84, 84 mila. Vedete un panno pulito? Semplicemente, essendo un tessuto spazzolabile, essendo un tessuto... Se ci dovesse essere della polvere, che raramente, diciamo, su un pannello porta ci può essere, ma su un sedile la potete vedere, se non avete gli strumenti o la manualità per sentirvi sicuri di poter operare della serie Spazzola d'Ottone, Tornador e quelle robe lì, su un sedile potresti avere della polvere, ma proprio la struttura intrinseca dell'Alcantara ti fa sì che semplicemente anche con un movimento a spatola di panno, spatola... Se hai un residuo polveroso importante, lo smuovi subito, lo vedi che ti parte via della polvere. Purtroppo questo è un rimedio della nonna, quello che vi sto facendo vedere, però non voglio mettere in pasto alla massa delle cose facendovi vedere con spazzole di ottone, Tornador e robe del genere, che poi andate a provarci e altro che il danno al cerchio con l'acidazzo d'autolavaggio alcalino, no, poi lì vi incazzate perché qua fare il danno è molto più semplice che fare un danno al cerchio con acidi alcalini da lavaggio. La cosa che dovremmo fare quindi cos'è? È un tessuto, un tessuto, un tessuto che va bagnato il meno possibile, un tessuto che va pettinato in una direzione o nell'altra, un tessuto che non ama essere molto toccato. E allora cosa cazzo dobbiamo fare? Il modo più sicuro per pulire l'alcantara è quello di prendere semplicemente un panno pulito, un pulitore tessili, un pulitore per, vediamo se lo trovo, sì, un pulitore per tessili, come questo. E perché vi dico non un APC? Innanzitutto gli APC, tranne alcuni che sono molto sicuri, addirittura anche certificati per essere compatibili con l'alcantara per la loro sicuramente qualità della materia prima e per la facilità di risciacquo, nonostante siano molto schiumogeni. Non è lo stesso, secondo me, il rimedio migliore, non l'è mai stato e non li ho mai usati sull'alcantara proprio per quel discorso. I prodotti fatti per essere dei detergenti per tessili sono senza schiuma, sono tutti con inseriti degli abbattitori di schiuma e adesso tutti saranno scandalizzati. Perché? Voi chiedete a qualsiasi produttore di macchinari iniezione, estrazione, cos'è la cosa che più fa male al macchinario iniezione, estrazione? È la schiuma, la schiuma. Poi dopo sono nati macchinari, addirittura col sistema a forma schiuma e con le robe lì, ma hanno un sistema di aspirazione, di scarico a livello di motore poi che è completamente diverso da quelli standard. Addirittura se voi comprate una macchina iniezione-estrazione, anche professionale, il secondo giorno che la usate perché vi dimenticate di controllare che è troppo piena nonostante ci sia la funzione, quella che ti blocca il motore nel momento in cui capisce che il livello delle acque di scolo è troppo alto. Bene, questo in presenza di un prodotto molto schiumogeno può fallire. Della serie la schiuma può essere risucchiata all'interno del motore e distruggi il motore. E la prima cosa che ti diranno quando tu andrai a portare la macchina in assistenza arrabbiato, ma io la macchina iniezione-estrazione, la mia macchina non funziona più, ti diranno che prodotto hai usato e tu felice come un bambino gli dirai io ho usato il mio prodotto da super di Tyler Wanzix di qua di là e gli dirai nome, cognome, indirizzo, vanno a vedere la descrizione, vanno a vedere che non c'è, non è un pulitore tessili con abbattitore di schiuma, ti pigli in der cooler la garanzia della tua macchina iniezione-estrazione. Proprio per questo discorso, per quello che ci sono i pulitori tessili, ci sono gli APC, ci sono gli interior cleaner, l'unico svantaggio, vi dico, è una cosa che raramente succede, questa di bruciare il motore della macchina iniezione-estrazione, ma leggete il libretto delle istruzioni di qualsiasi macchina iniezione-estrazione, chiamate il centro di assistenza, chiamate il vostro rappresentante, il vostro fornitore, chi cazzo volete, e se non è uno che vi prende per il bus del gnao, ed è fisicamente poi la persona che nel momento in cui la vostra macchina iniezione-estrazione si guasta, ve la ripara e a gratis, chiedetegli questa cosa, poi se me la potete scrivere nei commenti, se vi risponde no no, è una stronzata, venite qua, ditemi nasella, hai detto una cazzata, so di non averla detta. Pulitore tessile, tipo questo che vi ho fatto vedere, adesso andiamo a diluirlo, uno a, che cazzo ne so, uno a? Uno a? Cinque? Uno a dieci? Uno a cinque? Uso sempre tutto uno a cinque, non sbagli mai con l'uno a cinque. ha un difetto rispetto agli APC che voi ormai utilizzate anche per pulire i sedili. Non è sbagliato, eh? L'APC di per sé è più potente verso lo sporco insistente. Diciamo che i texti cleaner sono prodotti più blandi, non sono prodotti fatti per risolvere situazioni catastrofiche, dove allora li si. O abbassi drasticamente le diluizioni del texti cleaner, ma useresti molto prodotto, se pure i texti cleaner costino molto poco. O sennò, inevitabilmente, devi utilizzare un prodotto più forte. sull'Alcantara, su questo genere di situazione, che è una situazione di uno sporco medio, non gravissimo, perché sennò vi ho detto che è, l'uso del texti cleaner, secondo me è assolutamente d'obbligo, non avremo schiuma, è un prodotto come tutti i prodotti, questo si chiama texti cleaner, ma è una categoria di prodotti che si chiamano texti cleaner, li fanno tutti i brand. Ogni brand ha il suo texti cleaner. E come vedrete, il texti cleaner non sarà mai schiumogeno, non sarà mai potente come l'APC, però sarà un prodotto che, oltre a non averlo schiuma, oltre ad essere molto delicato sulle fibre, sarà anche un prodotto molto facile da risciacquare, della serie che non lascia residui. Quindi, alla fine della fiera, abbiamo diluito il texti cleaner 1 a 5. E vi ricordo che anche il texti cleaner di Kartec, lo trovate su Charismatics, e con il codice sconto Nasello 10, avete il 10% di sconto su tutto anche ciò che è in promozione. Saturiamoci il panno di prodotto. Ok? Dopodiché, diamo la mano e movimento rettilineo con un po' di pressione, con il panno saturo di prodotto. Quando il panno è nuovo, ovviamente, si scaricherà più velocemente. dovete utilizzare solo due direzioni al massimo. Non mettetevi a fare movimenti così circolari sull'alcantara. Qual è il pericolo? di sfibrarlo. Sfibrarlo. Con questo genere di prodotti che praticamente non necessitano risciacquo, la cosa che andremo a fare è poi, con la parte asciutta del panno, andarci ad asciugare l'alcantara. Adesso mi direte no, adesso aspetta farcelo vedere perché si deve asciugare. Il materiale è praticamente asciutto. Rimane ma giusto un minimo, un minimo di umidità. Ok? Nel caso avessimo invece questo è tutto ragazzi. Nel caso in cui nel caso in cui invece avessimo bisogno di rimuovere una macchia e abbiamo bisogno quindi di avere più azione spot o così a questo punto dobbiamo aiutarci con una spazzolina a setole più morbide. Io in questo momento non ce l'ho. Qui ho spazzole pelle ma van bene anche quelle. Basta ovviamente a non fare pressione. utilizzare delicatezza spruzziamoci solo le setole dell'esterno della spazzola che ci serve per andare a lavorare spot e vediamo ancora la parte del panno bagnata si e il nostro spot ce lo andiamo poi a uniformare in questo caso sto facendo pressione così come in fase di asciugatura questa parte di pannello è pulita adesso appena la parte si asciugherà potremo giudicare al 100% la bontà del nostro lavoro io per esperienza vi dico che qui non avrò più niente da fare posso continuare con tutta l'altra parte sporca qui la situazione è bella una volta che si asciuga poi potremmo farci i pettini ci possiamo fare quello che volete questo appelo molto corto nel caso in cui vi trovate di fronte ad un alcantara sfibrato della serie che fa i pallini l'unico modo per risolvere è con il rasoietto con il rasoietto o con quel attrezzino che ti toglie i pallini dai maglioni quella roba lì rotonda che quello è un altro rimedio della nonna che però funziona una volta che l'alcantara è sfibrato è da sostituire non c'è un rimedio è un materiale molto delicato come evitare di rovinarlo innanzitutto evitare di sporcarlo evitare il più possibile di sporcarlo evitare quando abbiamo una macchina con un interno in alcantara dobbiamo mettere già in conto che ci siamo creati un problema anche perché sui sedili poi è veramente tragico io l'avevo sulla corvette l'alcantara è un materiale che di inverno si va bene perché ti tiene il culo caldo d'estate io scendevo dalla macchina dalla corvette ero un lago d'acqua potevo mettere la temperatura a meno 20 gradi dentro scendevo che avevo la schiena e le chiappe come se fossi uscito dal mare al 15 d'agosto però è molto bello da vedere quando è nuovo calcolate che ha un'usura molto precoce rispetto a tutti gli altri materiali quindi l'unico rimedio è cercare di tenerlo più pulito possibile ma della serie di non sporcarlo e nelle operazioni di pulizia utilizzare meno contatti possibili e meno acqua possibile non ama essere bagnato l'Alcantara e sono riuscito anche oggi ad essere logorroico e a farvi due palle tante ma visto che me l'avete chiesto talmente tanto volevo spiegarvi un po' più nel dettaglio le cose piuttosto che fare un video da bimbo minchia dove vi dico no prendi solamente il panno fai così poteva durare 15 secondi su TikTok un video del genere io su TikTok non ci vado a fare i video seri perché mi rifiuto chi vuole capire capisca chi non vuole capire un cazzo allora vada su TikTok a vedere i video 15 secondi io come al solito ragazzi vi ringrazio calcolate che vi ho fatto vedere una tecnica estremamente basilare che ognuno di voi può replicare nel settore professionale poi a volte le elaborazioni sono ben diverse da quella che vi ho fatto vedere su una situazione simile diciamo che basta e avanza va bene ci vediamo ciao ragazzi grazie a tutti